Sono arrivati tutti nelle ultime 72 ore. Per la maggior parte si tratta di donne e bambini che vengono da Kharkiv. Sono fuggiti dalle bombe dall'assedio dei soldati russi. Hanno raggiunto l'Italia con auto private e pulmini e adesso si ritrovano alloggiati in appartamenti messi a disposizione dai tanti ucraini che vivono da tempo nella zona costiera del Terramano. Questa mattina erano tutti in fila al lab vaccinale del Parco della Scienza a Terramo per sottoporsi al tampone. Qualcuno ha anche fatto il vaccino, soprattutto i bambini. Fino ad oggi i positivi trovati tra coloro che sono arrivati dall'Ucraina sono stati pochissimi. Voglia di parlare? No, non ce l'hanno. Hanno dovuto abbandonare tutto, hanno rischiato la vita. Dimenticare quanto hanno visto e vissuto non possono. Il dolore lo si legge ancora nei loro occhi. Continuano ad arrivare diciamo in modo isolato, in autonomia, non come gruppi organizzati numerosi. Comunque oggi sono intorno ai 20. Vengono per il tampone l'STP, chi vuole fare il vaccino fa il vaccino. Adesso stiamo in collaborazione con la Questura e con la Prefettura per fare la registrazione e eventualmente trovare l'alloggio. Fino ad oggi i tamponi sono stati tanti ma i positivi fortunatamente pochi? Fortunatamente pochi, nel senso come percentuale di positività rispecchia la positività della popolazione italiana. E per i tamponi, per i vaccini invece? Per i vaccini la maggior parte delle persone, cioè gli adulti, le mamme, erano vaccinate o hanno fatto il booster. I piccoli non erano vaccinati però l'hanno fatto.